Andrea Guanci, direttore marketing MSC Crociere. Finalmente è vacanza. Questo è il nostro claim, questo è quello che stiamo raccontando in televisione, in radio, qui in fiera alla Borsa Mediterranea del Turismo per parlare di crociere, ma soprattutto per parlare della voglia di vacanza, la voglia di vacanza che si sente un po' dappertutto in Italia e in tutto il mondo e alla quale noi di MSC Crociere siamo pronti, siamo preparati e siamo stati i primi già ad agosto dell'anno scorso a ripartire con una nave e continuare a navigare anche in periodi di zone con multicolore. Adesso che siamo tutti bianchi, adesso che c'è la possibilità di ricominciare, di tornare a viaggiare, MSC Crociere c'è e c'è con tantissime navi e tantissime opportunità per viaggiare comodi da vicino casa, quindi partendo da ben 11 porti italiani e potendo viaggiare e visitare le meraviglie del Mediterraneo, la Grecia, la Croazia, Malta e presto anche Spagna e Francia, ma portando anche gli italiani in tutta sicurezza a vedere le meraviglie del nord Europa attraverso un prodotto che prevede il volo MSC Crociere, dove ci saranno esclusivamente croceristi, che porterà i nostri viaggiatori fino ad Hamburgo e poi a Kiel per imbarcarsi e vedere le meraviglie appunto del nord Europa. Questa è l'estate di MSC Crociere, ma noi stiamo già pensando all'inverno, alle vacanze che potremo fare già da novembre in poi. Abbiamo aperto nuovissimi itinerari, per esempio andremo in Arabia Saudita, andremo al Mar Rosso, tutto in una bellissima crociera e così anche per gli Emirati Arabi, porteremo i nostri crocieristi a vedere le meraviglie di Dubai, di Abu Dhabi e di tutti gli Emirati Arabi. Abbiamo quindi in serbo tante sorprese, tante novità per i nostri crocieristi, ma soprattutto abbiamo voglia che in completa sicurezza e massima serenità torni e si continui a pensare alle vacanze.